Io innanzitutto metterei in evidenza il carattere inaudito del discorso di Severino. Noi siamo abituati a pensare che le cose divengono, siamo abituati a pensare che passano da non essere all'essere. Per esempio, pensiamo che anche questo nostro incontro, in questo momento, qualche istante fa non era e tra poco non sarà più. Certo, c'è quest'aula, ci siamo noi, ci saremo ancora noi, ma nella sua specificità, quell'essente, quel non niente, che è questo nostro stare insieme, per lo più siamo abituati a pensare che prima non era nulla e tornerà ad essere nulla. Bene, Severino ci dice che tutto questo è follia, perché implica la persuasione che ci sia un tempo in cui un essente, ad esempio questo nostro stare insieme, sia niente. questo lo metterei bene in evidenza, perché qui Severino sta mettendo proprio in discussione quella che è la certezza fondamentale, quella che riteniamo essere una delle evidenze fondamentali, che le cose divengono, che le cose nascono, che le cose muoiono. E mettendo in discussione questa certezza fondamentale, mette in discussione la nostra civiltà, il cuore stesso della nostra civiltà, e tutte le forme in cui essa si esprime, l'arte, la politica, l'economia, la filosofia, la religione, in quanto tutte sottese da questa persuasione fondamentale, che le cose siano di per sé niente. E invece Severino ci dice che le cose non stanno così, che tutto questo è follia, che tutto questo è follia. L'implicazione aurea, a cui ho fatto cenno questa mattina, in occasione di questo congresso internazionale dedicato alla figura, al pensiero di Emanuele Severino, è proprio questo, dice della implicazione dell'eternità dell'essente da parte dell'essersè dell'essente. Cioè, quella che sembra una banale tautologia, ogni essente è un non niente, implica niente meno che l'eternità dell'essente. A me piace dire che se al centro della struttura originaria sta l'affermazione dell'eternità dell'ente, e la struttura originaria è appunto la struttura dell'essersè dell'essente, è quella tautologia originaria che implica, dicevo, l'essersè dell'essente, che implica l'eternità dell'essente. Se al centro della struttura originaria sta l'eternità dell'essente, al centro di questo centro sta l'affermazione che la negazione dell'essersè dell'essente è una autonegazione. Cioè sta l'affermazione che l'essersè dell'essente, l'affermazione dell'essersè dell'essente, è qualcosa di incontrovertibile. Qualcosa di incontrovertibile. Questo è un tema molto complicato. Io posso, così, rimanendo molto sulla superficie, indicarlo, ma è il luogo in cui viene studiato, esposto nel modo più compiuto, è il celebre capitolo sesto del saggio Ritornare a Parmedide, che si trova in essenza l'ichilismo. La tesi è questa. L'opposizione universale del positivo e del negativo, cioè l'essersè dell'essente, è la legge di ogni pensiero e di ogni pensare, è il destino di ogni pensiero. Perché? Ma perché la negazione dell'essersè dell'essente è esa stessa, un essente che si oppone a tutto ciò che è altro da sé, e anche dal nulla. Quindi negando l'essersè dell'essente, la negazione dell'essersè dell'essente nega ciò che sta al fondamento del suo stesso dire. Perciò è un dire che dice io non riesco a costituirmi, perché nego ciò che sta al fondamento del mio stesso dire. Questo, diciamo, è un tema molto complesso, che poi si articola in modo, diciamo, esemplare nel succitato capitolo sesto del Ritornare a Parmedide. Ma questo è il significato. L'essersè dell'essente è il destino di ogni essente e di ogni pensiero. Questa mi sembra che sia la cosa più fondamentale da sottolineare. E aggiungere anche questo. Tutte le principali affermazioni che si trovano nei testi del professor Emanuele Severino sono implicazioni dell'essersè dell'essente. Cioè, sono affermazioni che non sono campate per aria, non sono fede, dogma, esigenze. Sono radicate in questo essersè dell'essente che è ciò la cui negazione e autonegazione, nel senso che ho cercato di spiegare. L'implicazione aurea è proprio questa. È questa tautologia originaria implicante l'eternità dell'essente. Questa tesi dell'eternità dell'essente è la grande luce che illumina un po' tutto il discorso di Severino. Per la prima volta è stata formulata in un testo precedente la struttura originaria, la struttura originaria del 1958. Ma questa tesi per la prima volta viene enunciata in un articolo uscito nel 1956 dedicato ad Aristotele e alla metafisica classica. E lì per la prima volta annuncia questo tema che è fondamentale e che poi informerà un po' tutta la sua produzione. Questa è la grande luce. Tutti i passi innanzi, e sono notevolissimi, e sono importantissimi, che si trovano in essenza nel nichilismo, in destino della necessità, nel trittico della gloria, cioè i testi della gloria, oltrepassare la morte della terra. Sono passi fondamentali, ma sono tutti, diciamo, solidali a questa luce determinatissima e concretissima che è appunto la tautologia originaria, implicante tutta una serie di determinazioni che della tautologia originaria, cioè dell'essere sede e dell'essente, esprimono la concretezza.